Grazie a tutti. Di cosa si tratta? Perché lo fate soprattutto? Ma se siamo già alla dodicesima edizione possiamo dire che veramente ci possiamo tenere soddisfatti perché la dodicesima edizione si dice è la prima, la seconda ma poi arriverà la dodicesima quindi è una cosa molto importante. La nostra è stata un evento molto importante per i paesi vicini specialmente per la Valle del Savuto perché oltre le tradizioni che noi stiamo tramandando con la Proloco cerchiamo di chiamare anche gente perché come ho sempre detto noi non vogliamo morire in questi paesini piccoli, vogliamo vivere, vogliamo andare avanti. Per andare avanti abbiamo bisogno di tutte le persone che vengono a Carpanzano perché ci sono cose belle da vedere anche se sono piccoli questi paesi, diciamo che sono piccoli borghi, dei piccoli scrigni che devono essere rivalutati che purtroppo non sono valutati da nessuna persona. Ma noi cerchiamo nel nostro piccoli di fare qualcosa di buono, qualcosa di buono perché noi crediamo in quello che facciamo e la Proloco di Carpanzano penso che sia molto attiva nella Valle del Savuto. È un ringraziamento principale a te Riccardo che sei venuto e a tutte le altre persone che ci hanno onorato a Carpanzano. Speriamo, speriamo, speriamo un altro anno di proporre nuove cose, di fare nuove cose per tutti. Ma già è importante quello che state facendo perché è stato bellissimo oggi assistere alla lezione perché ci hanno fatto una vera lezione su come veniva lavorata la castagna un tempo, questa lezione è stata fatta ai bambini, ai ragazzi delle scuole quindi voi avete come obiettivo, è bellissimo tramandare la cultura del territorio della castagna ai bambini che sono il futuro. Se non si parte proprio dalla scuola da dove dobbiamo partire? Certo, certo, è una cosa molto importante tramandare le tradizioni, siamo nell'era dei telefonini, di internet, però queste tradizioni penso che bisognerebbe rivalutarle, ripartire dalla castagna per finire poi ad altre cose più importanti, ma la castagna diciamo che è il primo passo. Grazie a tutti.